Perchè ci vogliamo sempre fare male da soli? Di questo parleremo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni, vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi al canale, è completamente gratuito, basta cliccare su questo iscriviti e attivare la campanella. Così sarete aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan in tempo reale, alcune volte anche in anteprima, attraverso le nostre rubriche giornaliere, attraverso le nostre live martedì e giovedì sera, attraverso anche i nostri pre e post partite, tutte le partite del Milan. Vi ricordo inoltre che potete interagire con noi tramite le chat durante sia le mie rubriche sia la diretta e potete lasciare anche un pensiero, un commento a fine video o a fine diretta. Vi ricordo inoltre che potete aiutare il canale tramite donazioni e abbonamenti, donazioni a vostro buon cuore, abbonamenti, 5 tipologie, da 99 centesimi a 3,99, 6,99, 9,99 e 14,99. Veniamo quindi un po' a reso conto di quello che è successo ieri, io ieri come avete visto non ero nella diretta, ero impegnato, ho visto in diretta il primo tempo e il secondo l'ho visto in registrata. Partita diciamo un po' difficile da Milan, un inizio direi disastroso, dove Milan è stato in balia del Bruges per almeno i primi 20 minuti, poi piano piano è venuta fuori senza però costruire grosse occasioni. E' venuto poi il gol di Pulisic da calcio d'angolo, l'espulsione del giocatore belga che ha dato una mano e comunque ci siamo poi complicati la vita come prendendo un gol 10 contro 11 e poi grazie a Caffor e grazie a Cuciguezze, doppietta di Randers e 3 a 1. Dispiace per il quarto gol di Camarda annullato, sarebbe stato un lieto fine, però purtroppo noi con lieti fini non andiamo tanto d'accordo, mi ricordo l'ultima partita fatta da Ibrahimovic con il Sassuolo, ricordate l'anno dello Scudetto, un gran gol 4-0 annullato anche lì per il fuorigioco ed era l'ultima partita ovviamente di Ibrahimovic poi nel Mina. Cosa dire, questa partita complicata, vabbè diciamo che la difesa è stata non sicurissima, centrocampo anche lì in fase interdizione non molto bene, abbastanza bene in avanti soprattutto quando poi forse Bruyce è stato un po' più stanco e noi con Nocafore, Cuciguezze e Freschi siamo riusciti a creare sicuramente più azioni. Ma quello che, a parte i tre punti che sono portati a casa, volevo commentare un po' la situazione che si sta creando attorno al Milan, una situazione che ce la stiamo creando da soli per lo più, un po' la situazione Leao. Leao, che è uscito ieri abbastanza scuro in volto, non ha partecipato alla festa sul campo per la vittoria, pur avendo fatto una discreta partita ieri, sinceramente non era, ha fatto, ha fatto fare il suo. Ha fatto anche due o tre, diciamo, sgruppate sulla fascia, mandando pallone al centro, però più di due volte non è stato seguito e quindi c'erano pochissimi giocatori del Milan al centro, cosa che invece nel finale della partita era molto più numerosi. E questa è un'ulteriore situazione che va a creare nervosismo questa situazione, che può essere giusta, visto anche i risultati che poi ha portato, ma che va a seguito di un periodo in cui Leao si trova al centro delle discussioni, un po' per colpa sua, ma anche un po' per colpa degli altri. Ho visto video di youtuber milanisti accusarlo di definizioni dati da Di Canio su Leao, che è una copia di altri giocatori. Cioè, situazione che, logicamente, per una persona che ha 24-25 anni, che vive anche lui nel mondo dei social, le vede, le sente e ne subisce, visto che Leao è abbastanza sensibile in questo. Non è... andiamo ad eterologia dicendo, ma lui prende 5 milioni più bonus e allora deve superare anche questo. Certo, ma ognuno ha il suo carattere. Direi che, quantomeno, da parte dei tifosi in mina, ci vorrebbe un po' più di pazienza, visto che Fonseca sta cercando di insegnargli un ruolo a cui non era abituato. Anche un ruolo in copertura, cosa che con Pioli non faceva praticamente quasi mai. E quindi, niente, ci vorrebbe un po' più di pazienza. Anche perché Leao è uno dei giocatori migliori che abbiamo. È un patrimonio che deve essere gestito e deve essere comunque mantenuto a livello di valore. Perché se Leao lo mettiamo in panchina e il valore dà 70-80 milioni, si dimezza in breve tempo. A parte questo, parliamo anche dello stadio. Ieri c'è stata una riunione, appunto, a Roma, fra Milan, Inter, Sala, la signora che era legata al vincolo, probabilmente, di San Siro. E poi il ministro delle infrastrutture, il ministro dello sport. Insomma, è venuto questo, è stato presentato un po' il progetto. E' tutti contenti e tutti felici, perché, diciamo, il vincolo non c'è più. In realtà il vincolo c'è, perché secondo Danello non si può buttare giù, quantomeno in parte. Ma può essere ristrutturato, eventualmente, il San Siro può essere ristrutturato, però dandone una, cosa vuol dire, un indirizzo diverso, un uso diverso. E a fianco si potrebbe fare quel famoso stadio nuovo. Scaroni contento di questo incontro. Però, ecco, anche qui, ragazzi, io capisco che siamo in Italia e che quindi bisogna tenere i piedi in due staffe, da una parte San Siro e da una parte San Donato. Però, fate chiarezza, cioè, i tifosi non ci capiscono più. Un giorno dite che il piano A è San Donato, poi il giorno dopo, invece, è diventato San Siro. Io vi dico chiaramente, se sceglierete San Siro con l'Inter, vi critererò asplamente, perché c'è una scelta che io non condivido per nulla, poi su scelte della società, logicamente, poi bisognerà farsi fare un buonviso al cattivo gioco. Ma è una situazione che, secondo me, non concepisco, ecco. Dopo aver parlato di San Donato, del stadio del Milan, comprato i terreni, eccetera, adesso viene fuori San Siro, se dovrebbe fare San Siro. E poi, cioè, a parte poi le solite polemiche dei residenti, dei WVF, dei Verdi, che ritornerebbero fuori un'altra volta, ricorsi, contro ricorsi, eccetera, eccetera. Ma poi, cioè, c'era un discorso del Consiglio Comunale di Milano, scusatemi, a riguardo della possibilità, diciamo, di costruire uno stadio, ma rispettando certe volumetrie, che era 0,35. E' stato ridotto da 0,5. E questo aveva fatto sì che si dovesse abbattere San Siro. Adesso no. San Siro rimane su. E in base a cosa non lo so. Cioè, qui non è chiaro niente, non è chiaro niente. Cioè, ci sono giornali che dicono, ah, adesso invece ci sarà manifestazione di interesse a parte della società, ma manifestazione di interesse e ancora non si sarà nemmeno il prezzo. Ma poi, facciamo due conti così, veloci, veloci, veloci. Uno stadio nuovo, quello del Milan, a San Donato, costerebbe un miliardo e quattrocento milioni. Questo qui c'è da farci meno a livello di infrastrutture, a livello di metropolitana, eccetera. Consideriamo un miliardo. Poi andrà acquistato lo stadio, cioè lo stadio, andrà acquistato San Siro Vecchio più la zona circostante. Io penso che almeno un trecento, quattrocento milioni costerà, siamo un miliardo e tre, un miliardo e quattro. Poi, San Siro Vecchio, deve essere in qualche modo ristrutturato. Non vuoi che costi un'altra trecento milioni? Siamo a un miliardo e sei cento milioni, così. Stando stretti, eh. Diviso due abbiamo otto cento milioni. Che, logicamente, è lontano da un miliardo e quattro, ma i proventi stessi, che poi vengono fuori dallo stadio, saranno divisi in due, logicamente, biglietti nella parte del Milan, ma anche l'ambiente stesso, che sarà come obiettazione, cioè museo dell'Inter, museo del Milan, sede del Milan, sede dell'Inter, ristorante del Milan, ristorante del Milan, ristorante... Quindi, sono due cose assurde. Terza cosa assurda, a me è preparato ieri, la protesta della Curva Sud, legata al discorso dei biglietti che non vengono più dati all'associazione Italia Mammian Club, nel stesso quantitativo, ma vengono fatte acquistare a prezzo, diciamo, normale, non più come abbonati. E sui costi dei biglietti. Su questo sono d'accordissimo. E' giusto fare una protesta, ma non condivido il modo, perché è già la seconda volta che la Curva Sud non fa tifo. Prima con l'Udinese, per il discorso di aver vietato da parte di Questura l'esposizione dei distriscioni. Adesso, per questi discorsi biglietti. Ma scusate, con te sarò sempre sarò, in Milan e soprattutto. Ebbene, allora ti fate. Cioè, voi state zitti, non aiutate la squadra, in un momento comunque complicato, con l'Udinese, ricordiamoci, abbiamo giocato in 10 per 70, per un bel po' di tempo, 60 minuti, 70 minuti. Ieri, cioè, è stata una partita complicata, è una partita da vincere in tutti i modi, e si sta zitti di silenzio. Solamente negli ultimi 10 minuti ci ricordiamo che siamo tifosi del Milan. E questo a me non piace, perché dovevate tifare per la squadra, perché il Milan, come si dice sempre, è soprattutto, e poi fa le striscioni contro la società, contro i biglietti, contro l'utilizzo di biglietti, cioè lo scarso apporto di biglietti ai Milan Club, queste cose qua. Questo andava fatto, non un silenzio per 80 minuti lasciando la squadra senza tifo. E questo per me non piace, ve lo dico tranquillamente, l'ho giocato altre volte, questa volta no. Non condivido per nulla, dovevate fare tifo per tutta la partita, e poi srotolare durante la partita dei triscioni contro la società per la sua politica dei prezzi. Tutto qua. Questo per me è stato fare un tifo per il Milan giusto. Altra cosa, non mi è piaciuto nemmeno i comunicati dell'Associazione Nazionale Italiana Milan Club, che se hanno una partenza di base giusta, perché è giusto, perché i prezzi che sono fuori dal mondo, lo ho denunciato anch'io tante volte in questi ultimi giorni, il discorso di non dare più accipazione a Milan Club, o quantomeno nel stesso numero, per acquistare biglietti, è giusto anche quello. Ma non è giusto il tono. Cioè, io ho letto questi due comunicati, che hanno un tono offensivo verso la società. E secondo me non è giusto, non per proteggere la società, ma era un discorso proprio di... 7 Milan Club. 7 Milan Club. Quindi, cioè... Ci sono stati dei passaggi, mi sembrava di sentire alcuni dei youtuber più estremisti, come se avessero scritto loro questo comunicato, questa nota, e non del Milan Club. Non lo so. Non mi è piaciuto nessun due modi, cioè, secondo me, manca un po' di eleganza. Lo so che l'eleganza non è di tutti, ma, secondo me, un po' di eleganza ci voleva, perché vi avrebbe dato anche più forza allo stesso tempo, e non capisco poi il non ti fare Milan allo stadio, questo proprio veramente non l'ho capito. Comunque, a parte questo masochismo milanista, che ormai quest'anno sembra che sia la nostra caratteristica, cosa dire? Speriamo in tempi migliori, vedremo adesso con il Bologna sabato, e poi martedì con il Napoli. Nel frattempo, la Juventus ha perso quello Stoccarda, così, perché anche qui, giustamente, ci sono delle lacune nel Milan, eccetera, però, quella che viene esaltata da Juventus fino a due giorni fa, è una squadra che fa media due tiri in porta a partita, una grande difesa, ma l'attacco non ci siamo, una squadra che è piena di infortuni, che deve far giocare molti giovani che non sono ancora a posto, e pronti per poter giocare, una squadra che ha delle lacune enormi a livello di Rosa, in attacco a solamente Vlaovic, quindi ha dovuto arrangiarsi, adattando giocatori che non sono attaccanti, per quel ruolo, per sostituire Vlaovic, che attualmente non è nemmeno in forma. Ecco, io mi immagino che questa situazione fosse al Milan, cosa sarebbe stato detto. Però, va bene, ognuno ha le sue opinioni, è giusto che se le tenga, questa è la mia, poi, ne parleremo in seguito. Vi ringrazio per essere oggi, di assentarci sempre con me, vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi, manca veramente poco a derivare a 10.000, fateci questo regalo. Noi ci vediamo domani, alle 14.30, e poi domani sera per DNA Team alle 22. Ciao a tutti, buona giornata e Forza Mina da Giovanni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti